Sono 20 le liste elettorali depositate nelle Marche per altrettanti partiti o movimenti in corsa alle elezioni del 25 settembre. Verosimilmente in Parlamento ci arriveranno esponenti di meno della metà delle liste presentate. Rossini TV vi ha illustrato ieri i candidati in corsa per i quattro poli, dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, dal terzo polo rappresentato da Italia Vivazione fino al Movimento 5 Stelle. Oggi andiamo a conoscere anche gli altri nomi e partiti che completano l'esercito di candidati votabili. Per la Camera dei Deputati al Collegio Uninominale di Pesor Urbino, oltre ai già citati Mirko Carloni per il centrodestra, Giordano Masini per il centrosinistra, Rossella Cotto per i 5 Stelle e Federico Talè per il terzo polo, si aggiungono Stefano Puzzer per Italexit, Renzo Savelli per Unione Popolare con De Magistris, Sveget Dalibor per Italia Sovrane Popolare, Loredana Narcisi per Alternativa per l'Italia e Chiara Pizzorno per il Partito Comunista per l'Italia. Al Senato, al Collegio Uninominale Marche Nord Pesor Ancona, Antonio De Poli per il centrodestra, Marco Bentivogli per il centrosinistra, Samuela Melini del Movimento 5 Stelle, Elena Fabri per il terzo polo, Emanuela Merli per Italexit, Marco Bini per Unione Popolare con De Magistris, Paola Raponi con Italia Sovrane Popolare, Gabriele Cinti di Alternativa per l'Italia e Stefania Settimi del Partito Comunista. Per quello che riguarda il proporzionale, il Partito Democratico schiera capolista al Senato Alberto Losacco e alla Camera Irene Manzi. Verdi sinistra avranno come capolista Caterina Di Bitonto e Luisa Serroni, impegno civico di Maio si presenta con Primo Di Nicola e Patrizia Terzoni, più Europa con Pierpaolo Loffrede e Mattia Morbidoni, il terzo polo di Azione Italia Viva con Fabio Urbinati e Tommaso Fagioli, il Movimento 5 Stelle con Roberto Cataldi e Giorgio Fede, Fratelli d'Italia si presenta con Guido Castellini e Lucia Albano, La Lega con Mauro Lucentini e Riccardo Marchetti, Forza Italia con Jessica Marcozzi e Valentina Vezzali, noi moderati con Tablino Campanelli e Giulia Marchionni, Italexit con Enzo Palladino e Massimo Gianangeli, Italia Sovrane Popolare con Fabio Pasquinelli e Marco Rizzo, Partito Comunista Italiano con Patrizia Serafini e Roberta Coletta, Alternativa per l'Italia con Cristiana Di Stefano e Fabio Sebastianelli e infine Unione Popolare con De Magistris con Davide Fior del Mondo e Arianna Buda.